Ma se combattevamo prima come dovevamo fare non mollando all'inizio del secondo tempo forse ci sarebbe stato qualcosa di più. Forse anche Fonseca qui ha avuto parecchi dubbi e ha sbagliato a rafforzare la difesa invece che rafforzare l'attacco perché noi dobbiamo sempre segnare di più e non variarci in difesa. Il tante è andato bene ma se poi avessi fallito non era meglio mettere Mayoral insieme a Dzeko perché io insisto sempre che Dzeko serve. Comunque è andata bene quindi non lamentiamoci. Però prepariamoci all'attacco con la Lazio perché li dobbiamo far diventare piccoli piccoli, che piccoli di quelli che sono.